Antonio ha stretto i denti come sapete per esserci assolutamente domenica, a fine partita non stava sicuramente benissimo, però poi già dalla mattina seguente queste tipologie di problemi mi hanno spiegato che sono anche molto repentini nell'andar via e quindi lui ieri e oggi si è allenato regolarmente e sta bene, a questo punto toccando ferro dovrebbe star bene.